ci piacciono quelli che si vogliono bene ma buonasera benvenuti guarda allora l'intervista la faccio io va bene dov'è dov'è qua qua vieni qua vieni qua servici mister vieni vieni girati questo qui è il nostro amico e oggi qualche giorno fa ha compiuto 57 anni ma mi ricordo molto bene è un po' malcuncio però va bene va bene adesso lasciamo la parola a lui che ci guiderà nella sua vita che cosa vi devo dire chiamo anche Gabriele che siamo in due a coppire gli anni allora questa sera questa festa è il convento cosa festeggiate? festeggiamo i miei 43 auguri auguri da tutto lo staff del convento grazie mille a tutti e anche quel ragazzo là ok adesso andiamo a trovarlo e poi mi raccomando è questa sera vieni vieni qua ecco l'abbiamo visto vieni vieni qua ciao come ti chiami? Gabriele mi chiamo Gabriele e allora abbiamo deciso di fare il compleanno assieme lui è un po' più giovane io li festeggio tra una settimana quindi gli auguri sono di tutti noi guarda col cuore il convento vi abbraccio per tutta la settimana e per tutto l'anno grazie mille allora allora mi raccomando stasera ecco un bel colpo di tosse per far andare via lo champagne purtroppo stasera sono veramente cotto no? al momento lo stesso c'è un prosciutto allora c'è un prosciutto! chiederemo divertircile si mi raccomando stasera grande festa vi aspettiamo tutti in pista e mi raccomando guardatevi su convento Italia 1 ah no ok su convento perfetto ciao ragazzi ciao ciao